Riteniamo utile accompagnare le auspicate prospettive di crescita e di sviluppo del nostro territorio soprattutto attraverso l'insediamento di nuove attività nei diversi settori economici e produttivi rafforzando l'azione della pubblica amministrazione mediante il supporto di organizzazioni datoriali che professionalmente sono organizzate e che operano specificamente in questi settori. Abbiamo appena chiuso un nuovo accordo con Compindustria Salerno, altri contatti sono in corso e in tempi ragionevolmente brevi provvederemo alla sottoscrizione di specifici accordi con Conf Esercenti, con Conf Artigianato e anche con enti di formazione per la preparazione dei giovani ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. A conclusione di questo percorso pensiamo di organizzare un momento pubblico di presentazione che sarà incentrato anche sulla illustrazione dei contenuti del nuovo PUC, sull'incremento e la riqualificazione delle aree produttive e sul regolamento che comporta consistenti riduzioni in termini di tasse di tributi comunali per coloro i quali sceglieranno San D'Arsenio quale sede delle proprie attività. Quindi cerchiamo di vivacizzare il nostro contesto di riferimento per creare più ricchezza, più occupazione, più indotte e soprattutto per dare una prospettiva ai nostri giovani.